Pochi agenti, troppi detenuti, la situazione rischia di esplodere nella casa circondariale di Pescara. I sindacati della Polizia Penitenziaria hanno manifestato davanti ai cancelli dell'ex provveditorato Abruzzo e Molise, nei pressi del carcere pescarese, per le condizioni di lavoro che definiscono non più sostenibili e per la decisione unilaterale della direzione di reintrodurre i turni di otto ore. USPP, UGL, FNS, CISL, SINAPE, OSAP, SAPE, FP, CGL e UILPA hanno protestato all'unisono. Siamo con Sabino Petronco, lo segretario regionale USPP. Non sono mancate poi aggressioni nei confronti degli agenti penitenziari? No, no, le aggressioni non sono mancate, anzi, ci sono molti di questi colleghi che ad oggi sono fuori, ancora malati per queste aggressioni, ma il problema chiaramente è scaturito tutto dal fatto di questi detenuti che sono psichiatrici e quindi sono soggetti che dovrebbero essere messi in sezioni controllate e chiaramente gestiti da personale e da sia infermieristico che personale di polizia che comunque adeguatamente formati. Già, dicono i sindacati, 400 detenuti a fronte dei 270 tollerabili, dei quali il 15% con problemi psichiatrici e dunque con la carenza d'organico difficili da gestire. La pianta organica è di oltre 160-167 e qui siamo di oltre il 40% al di sotto di quella che è la pianta organica. Marcello Ascenzo, segretario provinciale OSAP, voi avete detto non ce la facciamo più, la situazione lavorativa è diventata insostenibile. E per di più adesso un'amministrazione locale che intende sopperire la carenza di personale con un'azione unilaterale violando qualsiasi regola contrattuale di accordo quadro imponendo al personale un turno di servizio riguardante i tre quadranti giornalieri. Otto ore in sostanza. Leonida Mazza, CGLFP. Una situazione che rischia di esplodere? Eh sì, certamente rischia di esplodere. E' chiaro che stiamo parlando di un carcere, non stiamo parlando di un asilo o di una scuola che già di per sé, stiamo parlando di un carcere con persone che hanno, come si dice, molte non hanno niente da perdere, in situazioni drammatiche in cui vediamo decine e decine di carcerati a fronte di un'unica agente di polizia penitenziaria in sorveglianza, può accadere di tutto. L'appello di Giuseppe Nino, SAP. Lo facciamo innanzitutto all'amministrazione centrale e soprattutto al provvedore regionale perché dimentica l'Abruzzo e dimentica gli istituti abruzzesi che versano una situazione gravissima.